Abbiamo degli spazi straordinari che erano stati concordati con grandi stazioni e ferrovie dello Stato che adesso sono nella nostra disponibilità. Io credo che il modo migliore per utilizzare quegli spazi tra l'altro anche molto eleganti nel nodo ferroviario più importante del nostro Paese sia quello di affidarli a giovani creativi e che questi giovani creativi non siano scelti né dagli amministratori né dalla politica che scelgono quasi sempre male ma siano scelti da giovani creativi, giovani intelligenti che tra di loro scelgano i migliori e scegliendo i migliori vinciamo tutti. Grazie e buona giornata.